Dall'energia positiva di Vimar, TAB7 e TAB7S, il futuro della videocitofonia. TAB, un'offerta completa di soluzioni che dialogano con le targhe esterne Pixel. Disponibili in due tecnologie, grazie al Wi-Fi integrato e tramite l'app VideoDore. Puoi rispondere alle chiamate videocitofoniche e aprire la porta di casa comodamente seduto in salotto o ovunque tu sia. Vimar. Energia positiva.